Un uomo di una quarantina di anni si trova in vacanza a Dubai. Una sera conosce due donne. Decide così di prendersi le due donne a braccetto e di andarsi a fare una bella passeggiata per il viale. Mentre che erano a passeggio, una delle due donne nota una grossa macchina. Oh, guarda che bella Ferrari, parcheggiata che c'è là, che bella, quella sì che è macchina, risponde l'altra donna. Sì, perché non hai visto questa di qua, che è una Porsche? Queste sì che sono macchine, con quelle dovremmo uscire. Risponde l'uomo, certo che se io condurrei due macchine così non è che uscirei. Ah, tutte e due donne allora si mettono a gridare, si dice conducessi, conducessi, risponde l'uomo. Appunto, non uscirei e conducessi come a voi. Oh, yeah, oh, yeah.